di indebitarsi a un tasso inferiore. Perché sono sicuri, però sono sicuri. E poi vanno a pagare quella montagna di debito pubblico che non riusciamo ad aggredire, perché anzi, dal punto di vista nominale, cresce, è cresciuto, come diceva anche il professore prima, di quasi 100 miliardi solo nell'ultimo anno, nonostante la cura da cavallo a cui ci ha sottoposto il governo Monti. Quindi da qui non ne usciamo. Con queste politiche non ne usciamo. Ma, secondo me, è molto bello e interessante questa cosa del debito pubblico, perché poi, voglio dire, l'uomo della strada, la persona comune, il sottoscritto anche, a un certo punto è convinto che il debito pubblico sarà una cosa tipo i privati, per cui io faccio troppe spese, quindi sono uno Stato spedaccione, l'italiano lazzarone, invece il tedesco sì che lavora, si indebita. E dopo tu rifletti, ma è strana questa cosa, ma come mai dicono? Cioè, lo Stato, lo Stato non è sovrano, voglio dire. Perché lo Stato dovrebbe indebitarsi? Il più lo Stato, vabbè, fa le tasse, con le tasse si copre i servizi. Infatti tu vai a fare una ricerca interessante, scopri che dal 92 a oggi, qualsiasi sia stato il governo che sia succeduto, in realtà, tutto sommato, siamo stati più in un avanzo primario. Avanzo primario vuol dire che lo Stato italiano era in grado, con le proprie entrate, di pagarsi tutti i servizi e le tasse, lo Stato sociale, tutte quelle cose che rendono un paese come il nostro, un paese che può definirsi civile. E allora, giustamente, uno si chiede, tu hai chiesto, in maniera legittima, ma allora perché c'è il debito? Beh, il debito c'è per lo stesso motivo, per cui, e aumenta costantemente, non tanto perché noi spendiamo troppo, è vero, la spesa sociale a volte è eccessiva, ci sono gli sprechi, vero, ma non è quella la ragione vera, perché se fosse quella, non si spiegherebbe il motivo per cui noi siamo in avanzo primario. Noi, con le tasse che riscuotiamo, ci paghiamo i servizi, anche quelli eccessivi. Il vero problema è che lo Stato italiano deve pagare una montagna enorme di interessi sul debito. 90 miliardi. Una cosa sconvolgente, cioè deve andare in giro a elemosinare tra i mercati soldi per poter pagare, non i servizi, per poter pagare gli interessi su debito che si è accumulato in precedenza. Allora io faccio questa semplice osservazione. Ci preoccupiamo tanto dello spread che va a 300, 320, 500. Una domanda elementare che farebbe un bambino della prima elementare è ma perché dal 2008 avete iniziato a interessarvi dello spread o comunque negli ultimi dieci anni e nel 1990 ne parlava nessuno, nell'80 ne parlava nessuno, eppure c'era lo spread, cioè il differenziale tra gli interessi sui titoli del debito tedesco e quello italiano c'era. Il motivo è molto semplice, che in passato noi abbiamo avuto anche, credo, livelli da 1600, 1800, l'altro giorno c'era un economista che dice ma in passato abbiamo avuto spread al 1800. Ma allora perché non siamo andati... Però attenzione, però avevamo la nostra munita. Bravo, è lì che volevo arrivare. Svalutava. È lì che volevo arrivare. Allora, è lì che volevo arrivare. Perché allora lo spread fa paura? Perché hanno creato questo sistema folle dove noi non siamo più in grado di avere quella cosa che fino agli anni 80 avevamo, che era il fatto che lo Stato, cioè il Ministero del Tesoro, poteva, quando voleva, chiedere alla Banca d'Italia, dammi denaro, io ti do titoli. Tu mi dai denaro, io ti do titoli e te li pago interessi molto bassi. C'era un obbligo, un vincolo per cui il Ministero del Tesoro poteva e la Banca d'Italia doveva, fino al 1981, comprare e prestare denaro allo Stato, che adesso invece, cosa succede? Non potendo più farlo, non avendo più una banca nazionale nostra che fa questo servizio, noi dobbiamo andare sul mercato a chiedere soldi. Quindi guardate che il vero problema non è tanto il debito pubblico, perché la Spagna e l'Irlanda, alla fine degli anni 90 e anche degli anni 2000, avevano debiti molto bassi. Il vero problema è che il nostro debito, o meglio, il vero problema è quando il nostro debito diventa un debito fondamentalmente in mani straniere. Pronto? Pronto, buongiorno, professore Vito, sono Giovanni da Treviso. Dica. Io, nel 2002, quando è entrato l'euro, io...